A fare qualcosa di più, io e il Presidente Cirio ci siamo capiti. Tra questi interventi c'è la ristrutturazione e l'ampliamento del centro olimpico di Scinordico, di Pragelato, uno dei comuni che come sapete ospiteranno nel 25 i giochi mondiali universitari, c'è l'adeguamento delle strutture sportive per accogliere gli atleti disabili, c'è l'adeguamento dello stadio, c'è l'adeguamento, chiedo scusa, ci sono interventi sulle piste per le gare di sci alpino, di snowboard, di freestyle, la realizzazione del nuovo stadio del biatron, della pista di ski roll, quindi tutto quello che può consentirci di essere all'altezza ovviamente dell'aspettativa che si ha nei confronti dell'Italia, particolarmente quando si ospitano grandi eventi. Grazie a tutti.